Si è appena conclusa all'Aula del Sinodo la decima e ultima congregazione generale, i cardinali hanno votato che non occorrono ulteriori riunioni pre-conclave e tutto è pronto per l'elezione pontificia. È l'ultima riunione ufficiale prima dell'apertura del conclave fissata per domani pomeriggio, dopo quella messa proeligendo pontifici, che sarà l'ultimo atto pubblico pre-seduto dall'attuale cardinale decano Angelo Sodano, che poi non entrerà in conclave essendo 85enne e da un quinquennio dunque in attesa di avvicendamento. La decima congregazione generale è l'ultimo appuntamento utile per le porpore che vogliono pubblicamente prendere posizione sui temi che più hanno caratterizzato questi incontri, tra cui la riforma della curia e i problemi della Chiesa nel mondo, primi tra tutti lo scandalo pedofilia e batilix. All'approssimarsi dell'appuntamento del conclave si registra anche il fatto che molti dei 115 elettori non hanno ancora manifestato un orientamento preciso, il che lascia pensare che i giochi siano ancora del tutto aperti. Molti cardinali sarebbero infatti ancora alla ricerca di un nome che possa rappresentare una svolta per una Chiesa il cui problema numero uno è la fuga dei fedeli. Le congregazioni non sono state un sinodo dei vescovi o un mini concilio tuttologo, bensì una riunione d'emergenza dopo la cramerosa rinuncia del Papa. Quindi nelle riunioni tra porporati si è andato subito al sodo e i cardinali si sono subito dedicati a individuare profili adatti per il successore di Ratzinger. Come in dieci piccoli indiani di Agatha Christie, i nomi in lista sono diminuiti ogni giorno, fino a restare, come spiega il cardinale francese Barbarenne, a 5 e 6 credibili candidati al soglio pontificio. Insomma, è stata un'assise all'insegna del pragmatismo. Come ha sintetizzato un porporato straniero? Quando si dimette il presidente della General Motors, la priorità assoluta è sostituirlo prima e meglio possibile. Poi si discute se produrre SUV o berline. Intervenendo in aula, in una delle ultime congregazioni, il cardinale Angelo Scola ha ricordato che la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis vieta qualunque accordo per l'elezione del Papa, come ad esempio promettere futuri incarichi. I cardinali più accreditati per la successione al XXVI sono proprio quelli che hanno caratteristiche di governo e di capacità di amministrazione più forti, come ad esempio l'arcivescovo di Milano, Angelo Scola, che ha retto due diocesi importanti come Venezia e Milano e che attraverso la fondazione Oasis ha intestuto una rete di contatti a livello mondiale così come attraverso la rivista Comunio garantisce continuità teologica rispetto al predecessore Benito XVI, senza contare poi che gran parte degli elettori sono passati in questi anni attraverso l'Università del Papa, l'Università della Terranense, di cui appunto Scola è stato rettore.